Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2 Nell'episodio precedente avevo preso questa pistola che mi sono accorto che utilizza i proiettili della Magnum Quindi letteralmente questa è la Magnum, molto più potente rispetto alla pistola classica normale della Motilda Quindi per il momento l'ho equipaggiata Devo andare nel baule che ho dietro di me al momento per prendere gli altri colpi che ho In più ho trovato l'ultima stanza per quanto riguarda la chiave di quadri che era questa qua, ve la faccio vedere Era questa qua, la lavanderia Prima eravamo nell'ufficio Stars dove a qui c'era il computer, sono uscito e sono andato nella lavanderia Qui ho trovato una polvere da sparo quella normale, l'ho combinata insieme a quella grande che avevamo preso nell'episodio precedente E ho ottenuto altri colpi per quanto riguarda la Magnum In più ho trovato anche colpi per quanto riguarda la pistola aggiuntiva e questo La cassetta di sicurezza portata Adesso la aprirò, vediamo cosa c'è dentro Ecco fatto Vediamo cosa c'è dentro Proiettili Munizioni Il tasso di ricambio Ok Ok Quindi prendiamo tutte le munizioni Per quanto riguarda la La Magnum questa la possiamo andare a posare e questa la possiamo andare a posare Quindi organizziamoci un po' Vediamo qui come possiamo Mettere un po' di cose Questa adesso le andremo a posare Ok 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 Qui invece posso Chiave di qua Ok 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 Samurai modello Albert Mi interesserebbe però utilizzarla eh Perché qui ho cinque colpi Facciamo così Mi prendo questa Purtroppo è un peccato che io non possa togliere Tutti i colpi ma Deba restare così Facciamo così Ok E questa me la equipaggi qua sopra Nel tasto su Perfetto E me la ricarichi anche Ok Così almeno abbiamo più stabilità E più potenza Quindi Quello che dobbiamo fare al momento è mettere questo Il tasto di ricambio là sotto E vedere qui sopra Invece qui non si apre più vero? Qui non si apre più In poche parole noi dobbiamo solo andare a cercare L'altro componente del quadro elettrico Qui c'è una stanza che io non ho visitato Adesso vediamo Ovviamente ci saranno dei tagli Vediamo cosa Cosa riuscirò a A prendere Ok Quindi mettendo il tasto Ho ottenuto dei L'ingremento per quanto riguarda lo spazio del borsello E anche un altro coltello da combattimento Quindi Vediamo adesso Qui abbiamo completamente aperto tutte le stanze Le cassaforti Diciamo Le chiavette Adesso Io devo vedere Qui mi dice che ancora non è finita come aria Perché? In esplorazione mi dice Mi dice che è ancora in esplorazione Vediamo Allora io devo abbattere sto liker Perché so che Qui c'è un liker Devo solo Vedere dov'è Però lo sento molto vicino a me Eccolo qua Credo che un colpo di magno Mi lascia male A quanto pare è morto A quanto mi devo andare Ok E questo l'abbiamo tolto dal mezzo Adesso Com'è sta stanza Ancora è in esplorazione Perché è ancora in esplorazione? Cosa mi manca? E dai Ma mollami un po' Non mi vuoi mollare? Ma non posso ucciderti Ok Beh non sarà morto di certo Però Ok Allora devo vedere dove non sono ancora andato Allora questa è la stanza Tutta la stanza di cui ero prima Quindi questa la lasciamo stare per ora L'ufficio della sala est Che qui ancora Mi dice che è ancora in esplorazione C'è questa stanza Con dei proiettili E delle assi di legno E da questa parte Io sono qui Sto andando nel secondo piano Dove qui c'è la lounge E la biblioteca Andiamo nella biblioteca Ci prendiamo le Le cose Le Le munizioni per la pistola Ok Ho preso un'altra polvere da sparo Che andrò a combinare con questa Perfetto Per un po' utilizziamo questo Dove sono queste munizioni? Nell'angolo? Forse nella parte sopra Oppure devo spostare questa? Questa non si sposta Sono qua Eccola qua Ok Finalmente un po' di munizioni Non fanno mai male Ok Quindi anche questa l'abbiamo finita Qui cosa c'è? La cassaforte Eccola dove dovevo andare Nella sala d'attesa Sala d'attesa Che presumo Sia da qui Se non sbaglio Sì devo fare tutto il giro Che c'è la cassaforte dall'altra parte Sì 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 Non muore mai Presumo Presumo che non muoia mai Però già è la seconda volta che lo Atterro Allora vediamo cosa c'è qua Da qui Lo so che è È sei a sinistra Quindi sei così Due a destra Presumo sia così E undici a sinistra No E se invece faccio così Aspetta Sei a sinistra Due a destra Quindi uno due E poi undici a sinistra Uno due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Perfetto Componente Dammi il componente Compensatore Cos'è sto compensatore Riduce il rinculo e il rilevamento Con del Con del gas Propelente Ma non mi interessa il gas Propelente Volevo qualcosa in più Ok Andiamo sul tetto Andiamo nel tetto Vediamo Cerco di Finire tutte le Da qua Ok Cerco di finire tutte Le stanze Che ancora Ho da esplorare Qui ci sono le munizioni Come dicevo nella mappa E presumo che anche questa L'ho finita Infatti Quindi qui La parte superiore L'ho finita Meccanismo Meccanismo Qui c'era la torre dell'orologio Di cui mi mancano i due meccanismi No no Cosa farci Magazzino Alla est Ok Quindi possiamo Ridornare da questa parte E Andiamo nel Magazzino Da sopra Di nuovo qui sei? Oh io la magnum ce l'ho eh Non so se quante volte Vi devo atterrare Ancora No Calmo 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 Ok Fino a quando ho colpi Nella magnum Possiamo ragionare Ok Allora qui c'era il tetto Che mi portava Là sopra Io devo salire Devo salire Quindi devo salire Devo salire dall'altra parte Dalla biblioteca Ok Quindi devo salire Non devo andare a destra Ma devo andare nell'altra stanza Qui c'erano gli zombie Uno Ricordo che era proprio qua A sto punto Li togliamo dal mezzo Anche Con questa bastano due colpi Certo Per i pelli E dietro di me c'è di nuovo Mister X Davanti a me Uno colpo dato E un altro colpo dato Ehi Non ti bastano? Dai 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 Ok Allora E quindi andiamo da questa parte Vediamo in questi magazzini Cosa c'è Dovrebbe essere da questa parte Giusto? Magazzino alla est Per loro che non li avevo battuti Eccolo Eccolo Un ironaggio grande Si prende due slot Ok E ho completato anche l'aria Ok Qui Quori Non ho la chiave Me la Ok Me la fai nella mappa Quindi ora Adesso andiamo nella torre dell'orologio E glielo mettiamo Lo stiamo realizzando? Forse si è rotto un No Non c'è bisogno Dai Ok Qui non c'è niente Non c'è niente E quindi Ok Allora Se vado da qua Non mi serve Devo andare da questa parte E sicuramente Rincontrerò Mister X Forse Forse Si Perché già lo sento camminare Vabbè A sto punto scappiamo Eccolo là Aia Dai fammi passare Dai fammi passare Dai Dai Vita Non ho niente Ok Benissimo Il granaggio grande va qua Ok Questo si muove Fai scendere una scala Così io posso salire Mi ricordo che qua sopra c'è una specie di 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 cassa Di scatola da prendere Da aprire Mi servirebbe un po' di Salute No No Garaggio piccolo Che mi serve sotto Si Dovrebbe servire sotto Vediamo Vediamo se ho fatto le cose giuste Questo si muove Però c'è sta C'è sta cassa che qui non ho potuto prendere Non ho capito Cosa fare E credo che proprio Il Il Componente del quadro elettrico Sia proprio qui Ok Vediamo se lo metto là sopra Purtroppo c'è anche lì un dolorante Che non mi permette di Correre o camminare più velocemente Ci entrerebbe Perfetto Ok L'orologio funziona Mi farai cadere Perfetto Lì c'è il componente elettronico Ok Quindi prendiamolo E Andiamolo a mettere Là sotto Perlomeno spero che sia il componente elettrico Sì C'è la scatola Dove si apre? Da qua? Ok Ok Allora Dobbiamo Ottenere adesso del package Quindi ci vediamo direttamente Nella cella Là sotto Ok ragazzi Eccoci qua È stato un lungo viaggio Ho trovato anche Un'erba verde Che ho combinato Con quella rossa Con quella blu E finalmente Sono a livello normale Di salute Quindi Ok Quindi Dobbiamo far arrivare Rosso e blu Al viola Ok Ok Quindi Finalmente possiamo prendere Sta benedetta Ci sono anche altre cose Spray medico Ottimo Nota di Ben La centrale è invasa Da quei mostri Riesco a sentire Loro la mente Anche da qui Ma non sono loro Che mi spaventano Nome in codice Tyrant L'arma biologica Definitiva Sviluppata da quei bastardi Nella massima segretezza Il solo pensiero Che quella bestia Sia qui Intorno È molto probabile Che abbia ordinato Di eliminare Ogni Testimone Qu'è? Ma che non racconta i rumori dell'orfinanza. Penso che è troppo coincidente che Umbrella è uno dei benefici. Hai detto che questa intervista è sulla nuova scolarsia Umbrella. Non c'è nessuno di questo, vogliono sapere del virus G-virus. E la grande f***ing sinkhole in la città, che, per l'altro, rumore ha, va dire al tuo laboratorio. Ora, stai a parlare con me? Questa intervista è finita. Un uomo. Ok, tessera del parcheggio. Fuggi dal parcheggio. Qui abbiamo completamente fatto tutto, giusto? Ok. Qui lì, qui c'è il parcheggio. E se io te le guido? Wow, quanti siete! Non so se... Cerchiamo di battere, eh. Mi interessa quello che avete dentro le cellule, eh. Forse è meglio metterci nell'angolo, eh. Quanti siete ancora? Oh, shit! Oh, shit! Ciascuno. Oh, shit! Oh, shit! Oltre a rimanere io senza... Senza proiettili. Di prova. Ancora? Mi dovrebbe essere uno con il mio coltello. Eh, perfetto. Cerchiamo di evitarli, allora. A questo punto. Allora, cosa c'è nelle cellule? Niente. Mi spiega tutti i miei... Le mie munizioni? Eh, c'è, c'è, anche tu, dai. Ma non si può però, dai. Dai. Non posso schivare in questo mondo. Eh, dai. Anche tu. Dai, scappiamo, scappiamo. Siamo anche senza munizioni, dai. Di nuovo. Anche qua. Qualcuno che mi può salvare, per favore? Eh, da sempre. Ma non è morto, dai. Non ci sono. Gio. Ahaha. Ahaha. Eh. Eh. Che, la. Non c'è che ti ho scopo. È non, comunque non c'è. Non c'è! Che cosa muera, dai. Non c'è. I take it you have the keycard Yeah And this I was hoping you could explain what's on it Maybe After I hear it Let's get out of here We might want to open the shutter Prima però la voglio vedere Ah vabbè Una carta normale Molto carina la cosa che c'è scritto Qualcosa dietro Guarda la braccia non sente Aspetta Sta ascoltando la Si sente che sta ascoltando la cosa Bellissimo Devo tenuto il trofeo In fuga dall'ingobo Perché letteralmente siamo usciti Finalmente C'è qualcosa? E per qua siamo Non credo ci sia niente da prendere qui Non credo sia Munizione interna o altro Forse è qua sopra Essendo un negozio di Qua dentro Essendo un negozio Non mi ci fa entrare Ah è bloccata la strada Perfetto Infatti Sì ma è chiusa Ah la apri tu E qui ci dovrebbe essere Inferno di munizioni per me Giusto? Canna lunga Per il fucile Presumo Robusto e resistente È un modello affidabile Molto maneggevole Cosa fa sta canna lunga? Aumenta la capacità A 8 colpi Ne potenza La potenza distruttiva Perfetto Beh sono gli unici colpi che ho Quindi Bom Granata A frammentazione Me la prendo molto volentieri Munizioni per la pistola Ho visto Domina trasformata Non dirai a me Come to deal with my daughter Drop it No Wait Stop Stap 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 We need to determine her before she turns Terminate It's my fucking daughter Hey Just let them be ma che lasci stare scusami è mezza trasformata già ah un occhio trasformato e un altro no no, 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 no. and I'm going to put you to bed too, ok? Emma? Just go, just give us some privacy No, it's one thing to keep the truth from me, but why him? L'ha uccisa I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it Helping people like them? That's why I joined the Force My mission is to take down Umbrella's entire operation We may not make it out Whatever it takes to save this city, count me in Ragazzi, direi che per questo episodio abbiamo visto moltissime cose Vi faccio solo un altro giro Per vedere se ci sono cose da prendere qua Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare un mi piace E di commentare se vorreste il video Mi fai entrare, credo proprio di nuovo che tu l'abbia bloccata da dentro Ci vediamo al prossimo episodio L'ho